Come è nata l'idea di candidarsi il sindaco di Rovigo? Buongiorno innanzitutto. L'idea non è venuta propriamente a me, quanto sono proprio nuova della politica. È stata una richiesta che mi è arrivata dall'assessore Corazzari come funzionario pubblico della regione e mi ha chiesto una partecipazione e un coinvolgimento da cui poi è nata questa idea di candidatura sindaco della città. Chi è Monica Gambardella? Sono una dipendente pubblica, un architetto, nata e cresciuta a Rovigo, fatto il classico e dopo architettura a Venezia. Un po' di professione, un po' di insegnamento e dipendente al servizio proprio della collettività da tantissimo tempo e quindi questo è il mio spirito, è la mia connotazione particolare, nel senso che l'attenzione che ho maturato negli anni è proprio questa. Servizio della collettività rispetto però non solo a collettività ma il territorio in senso generale, in tutte le sue componenti, che è la caratteristica della protezione civile, settore di cui mi occupo oramai da 22 anni. Ecco, qual è il suo obiettivo per questa città? Qual è un po' il suo programma, se si può sintetizzare? Sì, il programma è in fase di definizione con i componenti della lista e deve essere condiviso con le liste che l'appoggiano ma di fondo c'è l'idea di una riorganizzazione delle peculiarità di Rovigo per valorizzarla in un contesto polesano, quindi come capoluogo di provincia. Un'idea che tende a mettere un po' in rete le varie realtà e i vari soggetti sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista economico in un tessuto che è complesso ed è degli elementi importanti da valorizzare. Rovigo è veramente delle cose molto belle che devono essere anche fatte conoscere quindi anche rete con altre realtà esterne alla provincia e al comune di Rovigo. E per quanto riguarda invece proprio la città, ci sono dei temi principali che porterà avanti? Parlando con i cittadini e da cittadina ci sono dei temi che sicuramente dovranno essere affrontati penso che sia un po' punto comune per tutti i candidati. I temi chiave verranno affrontati. Quindi si parte da capo, io sono diversa da chi mi ha preceduto in tante cose senza nulla togliere però sicuramente c'è un punto di vista, una chiave di approccio diverso alle questioni. Quindi risolti alcuni nodi sicuramente si può fare anche qualcosa di più per la città. Ecco la lista civica che la supporterà le elezioni e in fase di costruzione come vi state muovendo? La lista civica è fatta sia da persone che hanno già avuto esperienza e che ci servono perché è giusto non perdere l'esperienza. E come dire, l'anziano non sa, no, anche l'anziano è un portatore di valori e di esperienza quindi anche in questo caso ci sarà qualcuno che ha già questo tipo di esperienza però ci sono anche tante persone della società civile, professionisti, dipendenti di vari settori e categorie ed età che daranno il loro contributo per la loro parte. Quindi lo stiamo costruendo insieme il programma su questa traccia che vi ho sinteticamente indicato. Ecco poi a supporto ci saranno Lega e gli altri partiti di centrodestra come Fratelli d'Italia ma anche altre liste civiche. Sì, esattamente. La condivisione di un progetto di centrodestra che vuole proporre per la città questi valori e questa impostazione metodologica insomma che vorremmo condividere con la cittadinanza. Ai suoi sfidanti ormai ci sono i nomi di Conchi, La Menon, Gaffeo e un notizio dell'ultima ora a Bellotti. Cosa vuole dire? Vien che è il migliore, ci confronteremo sui programmi ma soprattutto su uno servizio per la città ritengo che degli ottimi avversari comunque facciano il bene della città. Noi facciamo la nostra parte con il nostro stile e le nostre peculiarità e ci confronteremo su questo. Grazie mille. Grazie a voi.